In questo numero... Saluta del 22 febbraio. Il Consiglio regionale in apertura della seduta del 22 febbraio ha commemorato i tre militari italiani deceduti pochi giorni fa in Afghanistan a causa di un incidente su un mezzo blindato. I lavori sono proseguiti con la discussione di cinque ordini del giorno relativi al riconoscimento della cittadinanza ai figli nati in Italia da genitori stranieri. In conclusione è stato approvato all'unanimità un ordine del giorno primo firmatario Giampiero Leo, popolo della libertà, affinché la regione esponga per una settimana la bandiera del Tibet in occasione del 53esimo anniversario dell'insurrezione di Lhasa.